Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, ci ritroviamo su Genshin Impact dove oggi volevo vedere insieme a voi in anteprima quelle che sono le moveset o comunque i talenti in generale del nuovo personaggio che verrà introdotto a brevissimo all'interno del gioco ovvero Rosaria visto che sono state ufficialmente annunciate e rese disponibili volevo appunto dare un occhio insieme e dare qualche piccola opinione personale in base a quello che andremo a vedere oggi parliamo di Rosaria che ovviamente sarà un personaggio 4 stelle, utilizzerà la lancia e il suo elemento sarà il Krio abbastanza particolare come scelta visto che ultimamente stanno uscendo diversi personaggi con per l'appunto la lancia quindi con l'utilizzo della lancia ed effettivamente questa cosa potrebbe un pochettino mettere in difficoltà alcuni giocatori che magari non possiedono le armi giuste tra virgolette per equipaggiare i propri personaggi per quanto riguarda Rosaria come detto prima sarà un personaggio 4 stelle, possiederà come sempre i classici talenti di attacco normale, elemental skill e burst che andremo a vedere di seguito parliamo dell'attacco normale ovvero Spear of the Church dove l'attacco normale permetterà di performare quindi di effettuare fino a 5 rapidi attacchi come potete vedere appunto dalla gif che abbiamo qui rappresentato accanto le movenze anche di Rosaria per questi 5 attacchi sembrano essere abbastanza fluide a mio avviso quello più fluido in questo momento è assolutamente Shao Shao ha un moveset con la lancia che è praticamente un fiume che scorre non ci sono praticamente interruzioni o comunque non c'è rallentamento di nessun genere cosa che purtroppo su Zhongli ho notato spesso e volentieri con quella sua combo un po' particolare dove lancia per l'appunto dove dà un calcio alla lancia e le consente di girare che stacca un pochettino quella che è la ritmicità dei colpi che riesce a dare con le prime 3 hit Shao invece è veramente molto fluido, molto bello da utilizzare anche con attacchi normali anche se io non lo utilizzo con attacchi normali ma quelle poche volte che l'ho utilizzato con attacchi normali devo essere sincero è veramente piacevole da utilizzare vedremo Rosaria come si comporta dall'animazione non sembra anche lei essere abbastanza meccanica se non probabilmente per questo colpo che dà praticamente a terra ecco praticamente il terzo o quarto colpo che praticamente dà a terra che forse potrebbe un pochettino rallentare la velocità di esecuzione dei colpi ma per il resto penso che effettivamente possa essere anche lei un ottimo personaggio anche se non le darei mai il ruolo di DPS principale mi piace tantissimo utilizzarla come supporto elementale ma più che altro per fare danni elementali e dopo vedremo anche il perché ma sinceramente parlando utilizzarla così con danni fisici main skill personalmente non lo consiglierei più di tanto per quanto riguarda l'attacco caricato invece consumerà anche lei così come tutti i personaggi un piccolo a montare di stamina dove praticamente avrà una sorta di lunge quindi una sorta di lancio come praticamente l'attacco impicchiata che praticamente effettuerà danno a tutti i nemici che attraverserà un pochino come Utao se ci fate caso che praticamente si lancia attraverso i nemici per poter fare danno lei addirittura Utao dava il debuff con l'elemento di tipo fuoco lei non dà nessun tipo di debuff farà soltanto l'attacco e quindi farà danni fisici appunto ai nostri avversari mentre invece l'elemental skill in questo caso di Rosaria ovvero Ravaging Confession permetterà a Rosaria di posizionarsi praticamente dietro il suo avversario e quando colpisce l'avversario con ovviamente la sua lancia effettuerà danni di tipo Krio quindi in questo caso aumentare danni di tipo Krio sarà molto importante come potete vedere anche l'accumulo di orb non è affatto male quindi magari un pelino di energy recharge così giusto per avere la possibilità di poter fare un po' di ricarica un po' di batteria in più non sarebbe male ma già così a dirvela a occhio e croce probabilmente la builderò almeno io personalmente la builderò con due pezzi Krio per aumentare il Krio Damage e due pezzi Noblesse per aumentare i danni della burst a me sinceramente lei interessa principalmente come Damage Dealer elementale quindi farà molti danni con la burst come vedremo tra poco e addirittura questo attacco così utilizzato per mettermi alle spalle del mio avversario mi permette in un qualche modo anche di poter sfuggire a qualche attacco l'unica cosa che non mi piace effettivamente di questo attacco è che la skill non potrà essere utilizzata o comunque non permetterà a Rosaria di spostarsi alle spalle dei nemici più grossi bisognerà vedere anche quale dimensione viene intesa come nemici grossi perché per esempio Ruin Guard penso che possa funzionare come nemici grossi io probabilmente avrei come idea i boss fondamentalmente che sono comunque nemici grandi e quindi giustamente non si avrà la stessa possibilità di poterli trattare come dei mostri normali fondamentalmente i Ruin Guard e anche gli altri nemici presenti all'interno della mappa sono comunque nemici comuni mentre invece i boss già giustamente rappresenterebbero un ostacolo che anche Rosaria non potrebbe scavalcare in questa maniera ma andremo a vedere più nel dettaglio che cosa ci permetterà di fare Rosaria soprattutto con il suo attacco però fino a questo momento devo dire che non sembra essere ovviamente broken o non sembra essere particolarmente efficace come i personaggi 5 stelle ma sono sicuro che io in primis così come tanti altri riusciremo a trovarle un bel posticino nei nostri team infine la sua elemental burst quindi il suo attacco finale ovvero Rides of Termination ci permette praticamente di effettuare una sorta di preghiera rituale così come viene definita dalla descrizione dove praticamente lei scaraventa la sua arma praticamente al centro della mappa un po' come Chongyun che praticamente con la sua burst andava a mettere quella spada di ghiaccio enorme praticamente al centro dell'arena lei fa tecnicamente una cosa molto simile e successivamente quando lancia questa lancia frigida frigid ice lance che praticamente colpisce il terreno effettuerà un danno crio nel momento in cui la lancia cadrà sul terreno e successivamente questa lancia rilascerà una sorta di vento ghiacciato come potete vedere della sorta di scariche di vento ghiacciato che permetteranno di infliggere danni crio continuamente a tutti i nemici attorno questa penso essere la parte principale di Rosaria Rosaria con la sua burst diventa ottima sia per quanto riguarda ovviamente il fattore del danno crio che comunque può aiutare tantissimo i team in melt ad esempio ma il fattore che la corrente ghiacciata faccia danni crio in continuazione potrebbe metterla in risalto insieme a un diluc magari per fare delle combinazioni in melt io ho il sogno nel cassetto di trovare diluc magari un giorno si spera per poterlo utilizzare con chungyun e quindi praticamente effettuare una sorta di combo mistica praticamente tutta basata su elemental mastery e fare danni di tipo melt in continuazione con Rosaria in parte è possibile tra l'altro avere la doppia sinergia praticamente crio mi consentirebbe addirittura di essere più forte con i critici tra l'altro Rosaria avrà anche la possibilità di aumentare il crit rate al party tramite le sue costellazioni che ancora non sono state rivelate ma qualche cosina in giro se volete la si trova ed è interessante questa cosa perché effettuare questi danni crio in questa maniera ti apre le porte per tantissime combinazioni team in perma frozen team in perma melt team che praticamente ti consentono anche di approfittare dello shutter in base ovviamente anche a chi possiedi ovviamente all'interno del team devo dire che un team che già mi viene in mente subito da utilizzare potrebbe essere chongyun Rosaria di luke bennett che è un team praticamente con doppia risonanza ghiaccio doppia risonanza fuoco praticamente sfruttare i danni in perma melt potrebbe essere un qualcosa di veramente divertente e anche estremamente potente quindi già le combinazioni già tutto quello che può essere il personaggio di Rosaria soprattutto caratterizzata da questa burst il mio cervello praticamente già sta esplodendo sta volando e detto questo reputo che questa sia un'ottima burst molto meglio rispetto a tante altre burst che abbiamo visto in giro di altri personaggi anche i 5 stelle e devo dire che ha un valore aggiunto appunto il fatto che il danno ice quindi in questo caso il danno crio venga in un qualche modo ripetuto ogni tot secondi veramente veramente molto 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 buono detto ciò ovviamente io andrò a pullare su Rosaria già ve lo dico quindi vi aspetterò sul mio canale Twitch dove appunto effettueremo le pull in diretta proprio per trovare Rosaria voglio portarla almeno a Costellazione 2 quindi sto risparmiando tutte le gemme appositamente per quello detto ciò fatemi sapere se ovviamente voi pullerete per Rosaria fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente del personaggio di Rosaria a me non mi resta che augurarvi buona fortuna qualora vogliate pullare sul suo banner spero di potervi vedere presto qui su Youtube o sul mio canale Twitch detto ciò vi auguro una buona un buon proseguimento di giornata buon farming e ci becchiamo alla prossima bye bye ok Grazie a tutti.